La seconda commissione consigliare ha dato il via libera con tre voti favorevoli della maggioranza e tre assenuti dell'opposizione, decisivo quello del presidente Chiacchieroni, alla disegno di legge della giunta regionale che detta nuove norme in materia di agriturismo, fattorie didattiche e agricoltura sociale. Il testo legislativo racchiude la sintesi di altre quattro proposte di legge ed iniziativa consigliare, bocciato l'articolo 23 che prevedeva interventi di sostegno all'agricoltura sociale. Approvati altri emendamenti, tra i quali uno affirma Dottorini dell'Italia dei Valori, che consente anche ad imprese e cooperative sociali di utilizzare l'agricoltura come strumento di riabilitazione e di inclusione sociale. Altri della giunta, maggiore flessibilità normativa per le attività agrituristiche situate oltre i mille metri di altitudine e ancora il numero dei membri componenti i consigli di amministrazione dei consorsi di bonifica. Per quanto attiene agli agriturismi viene chiarito il concetto di prevalenza delle attività agricole rispetto a quelle agrituristiche. Vengono stabiliti limiti minimi certi per la somministrazione di prodotti aziendali, 30% di produzione propria, 55% di produzione regionale, soltanto per il 15% potranno essere utilizzati prodotti di altra provenienza. Verranno anche intensificati i controlli. Per le fattorie didattiche si è provveduto ad aggiornare la precedente normativa. L'attività, sempre connessa all'agricoltura, potrà essere destinata non soltanto a scolaresche ma anche a famiglie, associazioni, gruppi di interesse nell'ambito di una sola giornata o in più giornate, prevedendo quindi anche l'alloggio e la somministrazione dei pasti. Con le fattorie sociali si punterà all'inclusione sociolavorativa di soggetti appartenenti alle fasce deboli o comunque soggetti svantaggiati e disabili. Fornitura di prestazione di servizi sociali, sociosanitari, riabilitativi, terapeutici, formativi ed educativi. Il riconoscimento di fattoria sociale potrà essere chiesto dalle imprese agricole ma anche da imprese e cooperative sociali.